Questo video si dedica a Gigi, perché Gigi non è venuto, è in Garpagnana nella neve, quella fava, però questi sono ancora meglio, sono quelli che sono stagionati, sono quelli proprio artigianali. C'è anche il vinello di Ello Bono, perché l'ha portato Andrea, se che Andrea vi non fa nulla, guarda che immanimosa se che avete, i ciccioli della pace, bravo, e non c'è neanche ripartato questo video, ancora, vabbè, è andata nella neve.